Sentenza definitiva della Cassazione, ergastolo a Pietro Monreale, il ragazzo che a Caccamo ha tramortito e poi bruciata viva alla sua fidanzata. I dettagli. Lui, Pietro Monreale, 23 anni, di Caccamo, in provincia di Palermo, l'indomani dell'omicidio della sua fidanzata, si è presentato ai carabinieri e ha raccontato la mia ragazza dopo una lite si è prima incendiata e poi si è buttata in un burrone. La verità, sigillata adesso dalla Cassazione, è che lui l'ha aggredita e tramortita colpendola con un sasso, poi le ha piccato il fuoco addosso, ancora viva, poi l'ha gettata in un dirupo. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso come inammissibile e hanno confermato la condanna all'ergastolo a carico di Monreale, sentenziati nel primo grado dalla Corte d'Assise di Palermo il 12 ottobre del 2022 e poi nel secondo grado dalla Corte d'Assise d'Appello il 27 novembre del 2023. Lei, la fidanzata Roberta Siragusa, è stata brutalmente assassinata a 17 anni di età, il 23 gennaio del 2021. Dopo alcuni giorni i carabinieri da subito scettici sul racconto di lui lo hanno arrestato per omicidio pluriaggravato. Il rapporto tra Monreale e Siragusa è stato burrascoso. Nel corso del dibattimento in aula sono emersi 33 episodi di violenza commessi da lui nel corso del tempo contro di lei e poi le video di una telecamera di sorveglianza nella zona dell'efferato delitto che è stato proiettato innanzi ai giudici in occasione dell'incidente probatorio ed in cui è stata registrata l'agonia della sventurrata che brucia divorata dalle fiamme per almeno 5 minuti. E a poca distanza è posteggiata l'auto di Monreale nei pressi dello stadio comunale dove la coppia si è appartata dopo aver litigato e dove sono state trovate anche le chiavi di Roberta. E poi le macchie del suo sangue sono state rinvenute nell'automobile di lui. Pietro Monreale avrebbe assistito a quanto accaduto seduto in auto poi avrebbe caricato il cadavere sull'automobile e poi lo avrebbe lanciato giù in una scarpata nelle campagne di Caccamo. Lei avrebbe voluto separarsi da lui e lui non si sarebbe rassegnato tanto che al culmine dell'ennesimo di Verbio l'ha aggredita col sasso, l'ha gettata addosso del liquido infiammabile conservato in automobile e l'ha arsa viva. Durante la stessa notte i genitori di Roberta gli hanno telefonato. Lui, verosimilmente per crearsi un alibi, ha inviato dei messaggi al telefonino di lei scrivendole «Dove sei? Sono preoccupato!». Al processo si sono costituiti parte civile i genitori, il fratello e la nonna di Roberta. Il condannato risarcirà la madre della vittima, Iana Brancato, per 225 mila euro. Il padre, Filippo Siragusa, per 229 mila euro. Il fratello Dario, per 209 mila euro. E la nonna, Maria Barone, per 117 mila euro. Risarcirà anche il comune di Caccamo, parte civile, con una provisionale esecutiva di 15 mila euro. A difesa delle parti offese e civili hanno lavorato gli avvocati Giovanni Castronovo, Giuseppe Canzone, Simona Laverde e Sergio Burgio. Ipotizzato fin dall'inizio, avevamo un'idea. Grazie. Grazie. Grazie.